Se tu non hai niente non è facile da vivere, tu non hai scappi da giocare. Se non c'è pallone, se il padre di qualcuno ha i soldi, ha comprato un pallone per il suo figlio, se il suo figlio ha portato pallone, giochiamo. Però se il figlio non ha portato pallone, se c'è 20 persone lì senza pallone, cosa fai? Il mio nome è Augustina Chia. Abbiamo 4, 3 ragazzi e 1 ragazzo. Il ragazzo è Don San, è il nostro solo ragazzo, 1 ragazzo, 3 ragazze. Abbiamo un padre, che è William Stetschi, e un mamma, Mrs. Comfort, il nostro nanny. Abbiamo un padre, un padre, un padre, un padre. Un padre, un padre, un padre, un padre. Allyson, che areYouCri. Nienteя. as a friend she's all we have la mia città è stata fatta la mia città quando la mia città è fatta la mia città la mia città è fatta la mia città non ci si trova la mia città ma non so come il perché è un bambino non so come il bisogno la mia città ancora ma non so come un po' La famiglia della famiglia è una squadra. Sono felice di tornare a casa con tutta la mia famiglia. Io sono andato a casa. Questa è la casa mia. Questa è qua dove ho cresciuto. Se non fossi un cacciatore sarei una persona che lavora nelle piantazioni di cacao. Questa è la piantazione. Devi fare almeno 10-15 km a piedi per venire qua a fare il lavoro che devi fare. Adesso io non posso prendere il cacao perché il cacao non è ancora pronto. Devi tagliare le plantazioni per fare a posto il cacao. Però adesso non è un'incisione del cacao quindi devi continuare a tagliare l'erba per far crescere bene. Questa è una plantazione piccola quindi andando a quella grande sta crescendo un po' il cacao vero. Se trovi una cosa così non c'è niente dentro. Devi tagliare. a parte le plantazioni di cacao. Questa è una piccola cosa che ha fatto mio madre. Venivano qua per trovare la cosa da mangiare. La cosa per il pranzo. Una cosa come patate. Lo usiamo per fare polente. Anche questo qua se piove tanto produce un funghi. Lo usano per preparare il sugo. Se uno mi tira le banane in campo vuol dire che a casa mia ci sono tante banane buone. Quindi non è quello lì che devi avere paura. Perché tu lo vedi adesso che il mio a casa, il mio paese, quello che ho cresciuto. Un banane buonissimo. Non mi importa proprio niente. Stanno crescendo il cacao. Quindi è una cosa giusta perché se non piove adesso siamo in Hamatan. Quindi se non piove ogni giorno e poi ogni sera devi mettere un po' di acqua. per far crescere bene. Adesso questi sono piccoli e poi le mettono a tela. E questo è Don San. è una pezata che abbiamo. Poi è pronto per aiutare a fare tutto. Quando ero qua, questi uomini che mi trattano bene. Questo che si chiama Nobru, che mi taglia i capelli. E' questo che è il predetto della mia madre che lo cresce un bambino come me, che giocava a calcio. Quindi io ho qualcosa da offrire a lui. Due palloni così perché lo fanno in piccola gala qua, 24. Questa cosa qua mi fa bene. Questa cosa qua devi buttare fuori. Questa è la casa mia. Questa cosa devi creceri. Questa cosa vuoi? Questa cosa vuoi? Che vuoi? Tu non sei in casa. Tu chiami Don San, e tu le chiami. Tu sai da qua. Tu sai da qua lì. E' molto più tardi. Anche quando mi hanno fatto che Don San, e mi fa giocare. E' stato spazio, spazio, spazio. Questa cosa stai spazio. Anbiya is saying we're playing ball with this foot, even if there's no ball, you see him doing this, doing this. Alla scuola. Era sempre dietro per il motivo che non posso dare risposta a ogni secondo quello che mi dice il mio professore. Sì, è qua che ho iniziato a giocare a Kago. Abbiamo visto il parco. Non era così buono, no? Quindi, a volte, abbiamo fatto un po' di scuola e un po' di scuola. Cioè, abbiamo provato il meglio. Abbiamo un po' di scuola. Come questa, se cade. Se non c'è Dio che aiuta, se cade, sei morto. Non c'è Dio che non ci sono. It's a bit barefooted. Once you don't have boots, sometimes you have football and those things are not in good condition. And then try to sometimes sew some of the parts to play. He doesn't care that even the police do not do well. The boss have the talent, he manages to do everything anywhere. So I'm not surprised. Grazie a tutti. 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 Un balletto che si chiama Zonto. Tutti i bambini qua lo sanno ballare. Quindi... è basta cradio? No? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.